In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo, libro secondo capo quarto, della purità di mente e della semplicità di intenzione. Due ali sollevano l'uomo dalle cose terrene, la semplicità e la purità. La semplicità deve essere nell'intenzione, la purità nell'affetto. La semplicità tende a Dio, la purità lo riceve e lo gusta. L'azione per sé, purché si tratti di cosa buona, non ti sarà mai d'impedimento, se interiormente sarai libero da ogni affetto disordinato. Se non desideri e non cerchi altro, forché la volontà di Dio ed il bene del prossimo, godrai della libertà interiore. Se il cuore tuo fosse retto, ogni creatura sarebbe per te specchio di vita e libro di santi insegnamenti. Non va creatura così piccola e così poco stimata che non rappresenti la bontà di Dio. Se tu fossi buono e puro interiormente, vedresti e comprenderesti senza impedimento ogni cosa. Il cuore puro penetra il cielo e l'inferno. Ciascuno giudica al di fuori secondo che si trova egli al di dentro. Se va gioia nel mondo, certo la possiede l'uomo che ha il cuore puro. E se va in alcun luogo tribolazione ed angustia, più al vivo la sente la cattiva coscienza. Come il ferro posto nel fuoco smette la ruggine e diventa tutto incandescente, così l'uomo che pienamente si converte a Dio si trova sgombro dal torpore e trasmutato in altro uomo. Quando l'uomo comincia ad intiepidirsi, teme ogni piccola fatica e volentieri riceve la consolazione dal di fuori. Ma quando comincia a vincere perfettamente se stesso e da camminare virilmente nella via di Dio, reputa un nulla quelle cose che prima gli parevano gravi. Capo quinto della considerazione di noi medesimi Noi non possiamo troppo confidare in noi medesimi, perché spesso ci manca la grazia ed il sentimento. Picciol lume è in noi e facilmente lo perdiamo per negligenza. Spesso altresì non ci accorgiamo d'essere così ciechi interiormente. Spesso facciamo il male e peggio vogliamo scusarci. Talora è la passione che ci muove e crediamo che sia zelo. Rimproveriamo negli altri le cose piccole e passiamo sopra alle nostre più gravi. Siamo assai facili a sentire ciò che soffriamo dagli altri e da farne caso, ma a quanto soffrono gli altri per causa nostra non badiamo. Colui che bene e rettamente attendesse alle cose proprie non giudicherebbe mai gli altri come con severità. L'uomo interiore antepone ad ogni altra cura la cura di sé medesimo e colui che con diligenza attende a sé stesso facilmente si tace degli altri. Ma non sarai uomo interiore e devoto se non tacerai degli altri e se non baderai in modo speciale a te stesso. Se ogni tua sollecitudine è per l'anima tua e per Dio, poco ti commoverà ciò che vedi al di fuori. Dove sei tu quando non sei presente a te stesso? E quando hai percorso tutte le cose e trascurato te stesso, che cosa hai guadagnato? Se cerchi avere pace e vera unione, bisogna che ti getti tutto dietro le spalle e che badi a te solo. Quindi progredirai molto se ti serverai libero da ogni temporale sollecitudine. Perderai molto se farai caso di alcuna cosa temporale. Nulla ti sia grande né caro fuorché il Dio solo e ciò che viene da Dio. Reputa vana ogni consolazione che ti venga da qualsiasi creatura. L'anima che ama il Dio tutto dispregia ciò che è al di sotto di Dio. Il Dio solo è eterno ed immenso. Il Dio solo riempie ogni cosa. È sollievo dell'anima e vera letizia del cuore. Laudetur Iesus Christus, Semper laudetur, In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen.